e' come? come sai? magari segna io la passare guarda a Gomez no lui la deve far passare sotto la barriera una bella deviazione non lo so va fammi riprendere il suo golo Leo è uscito quello no 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 al rivedo al rivedo al rivedo al rivedo gool gooo 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 Stoloc! 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 Stoloc!